Allora Dumbo, prima saluta i ragazzi che questo sarà il tuo primo video perché sei comparso sul canale fin da ieri. Dai, saluta! Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo video. Oggi vi presenteremo a Dumbo, l'elefante! Ciao ragazzi, questa è la prima volta che sono comparso sul canale. Beh, in realtà da ieri. Vabbè, va, vale lo stesso, dai! Questo sarà il suo primo video, durerà tanto! Sì, sì, durerà tanto, sì. E c'è anche Super Salsosa! Che cosa dobbiamo risolvere? Oggi dovremmo risolvere questo mistero. È un escape room! Il primo escape room della storia che ho fatto io! Dai Dumbo, Dumbo! Questo escape room sarà un escape room di Halloween! Ma non è ancora Halloween! Sì, ma tra due giorni sta per arrivare Halloween! Oh, eh, ma si vince qualcosa! Sì, 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 si vincerà una grande quantità di caramelle! E tra queste ci sono anche le mie caramelle preferite, i Marshmallows! Ma non perdiamoci in chiacchiere! E adesso superiamo quest'escape room! Ah, e dimenticavo che vinceva anche un trofeo a forma di zucca! Oh, sembra carino! Dai, iniziamo! Dai, iniziamo! Io sono molto fifone, ho paura della mia ombra! Oh, non fa quel fifone! Io sono super sauzosa! C'è qualcuno? Superiamo tutti insieme! No, non devo essere paurezza! Ah, aiuto! C'è un fantasma a forma di mano! Ma tranquilli! Vuole giocare! Dai, superiamo quest'escape room! Che abbiamo ancora iniziato! Questo è il primo livello, infatti! Dai! Ragazzi, continuiamo! Aiuto! Dolcetto scherzetto! Beh, io so che vi ho fatto uno scherzetto! Beh, dai, continuiamo tutti insieme! Avevo paura! Dai, dai! Ah, io sono pauresima! Ah, fa pauresima! Cosa fa paura? Ah, aiuto! È orribile! Vi piace? L'ho fatto io! Oh, Tina! Ma è davvero orribile! Nel senso buono, ovviamente! Ma sono uscite delle zucche simpaticissime! Oh, dai! Non è poi così mostruoso! È fatto con le mani di orchina! Ah, ah, ah! Ma mi faceva un po' di brazzo! Ma dai, continuiamo! Sì! E io queste zucche me le tengo! Oh, oh! Oddio! Ah, ragazzi! Oh, aiuto! Che cosa succede? Non lo so! Sarebbe qualcosa di sopranaturale! E' giunta la vostra ora! Siamo le zombie! Vogliamo i nostri... E i vostri cervelli! Aiuto! 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 Vogliono i nostri cervelli! Aiuto! 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 Oh, 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 oh! Io sono la zucca che vuole i vostri cervelli! Aiuto! Come lo possiamo superare? Sono io! Ah, ah! Vattene via, brutta zucca! Ah, 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 ah! Vampir amico! Vampir amico! Ingerisci quella zucca! Grazie! Bravo, peruglielo! Sei stato davvero coraggioso! Non ce l'avremmo mai fatto senza di te! Sì, giusto! Ma... Queste zucche sono immobili? Ah, voglio il tuo cervello! Oh, no! Oh, no! Vampir amico! Vampir amico! Di nuovo! Oh, vampir amico! Dovete cavarvela da solo! Ma questo ci ha fatto proprio un vero scherzetto! Aiuto! È meglio si scappa! Il tuo cervello! Il tuo cervello! Il tuo cervello! Oh, no! Che gli è successo? Vampir amico! Abbiamo veramente bisogno di aiuto! Aiuto! Il tuo cervello! Oh, no! Ah, 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 ah! Vi l'avevo a metto! Ah, ah, ah! Magisco! Vabbè! Lasciamo stare! Oh, no! Che dobbiamo fare? C'è solo l'unica cosa per fargli distrarre! Sarà la vostra fine, brutte zucche! Sì! E dimostralo! Oh, oh, oh! Sono scappati dal vampir amico! Oh, oh, oh! Oh! Fa paura! Oh, 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 oh! Guardate! Lo escape room è quasi finito! Saremo quasi liberi! Oh, subito! Oh, oh, aiuto, aiuto! Congratulazioni, ragazzi! Avete superato queste scrape room coraggiosi! Eh, a dir la verità! Il più coraggioso è stato Dumbo! È vero! Sono stato io! Ebbene, Dumbo vince il premio Zucca! Oh, che bello! E tutti gli altri? I Marshmallows! Che bello! Che bello! Mamma, che paura! Beh, io sono stato un po' coraggioso, eh! Che bello! Un premio Zucca! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Bene, ragazzi! Grazie per aver visto il video fino alla fine! Votate e commentatelo! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti ragazzi! E al prossimo video! Che bello! Che bello! Che bello!